musica che fa video sui glitch e sulla mod di vari giochi e in questo video ragazzi praticamente avrete tantissime cose anche la mod dell'ufo e di altre cose ragazze fantastiche e niente ragazzi se questo video raggiunge i 200 like vi pubblicherò il quarto episodio quindi ragazzi mettete tutti un pollice in su questo video e noi ci vediamo al prossimo video bella a 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